Mi piace che ci siano dei lettori che non si annoino leggendo le pagine del vecchio Giampa e sappiano che Giampa non è uno che scrive su ordine di una ideologia, di un padre eterno, di un santissimo protettore del partito X, scrive perché gli gira di scrivere in questo modo. E allora quale giovane giornalista non ha desiderato ai suoi esordi di saper scrivere, di imparare a scrivere come un principe del giornalismo italiano, quale è stato Giampaolo Panza che ci ha lasciato esattamente un anno fa, il 12 gennaio dell'anno scorso. Anche uno scrittore, un saggista provocatorio a suo modo, soprattutto nella fase finale della sua produzione, un protagonista di un dibattito anche difficile e scomodo. Adele Grisendi, la scrittrice Adele Grisendi, ha passato 30 anni della sua vita con Giampaolo Panza e a questi 30 anni ha dedicato un libro, appunto, La mia vita con Giampaolo Panza. Buongiorno Adele, buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie a voi. Allora, abbiamo tutti ammirato Giampaolo Panza, il giornalista, lo scrittore, il saggista, il provocatore, l'animatore di dibattiti culturali, come dicevo prima, anche piuttosto scomodi. A lei che cosa manca di più di Giampaolo? Un'amica carissima mi ha scritto, la morte non esiste, lui è soltanto nell'altra stanza, il problema è che se io gli parlo non risponde. Ecco cosa mi manca, la sua voce. Queste sono parole straordinarie, bellissime, anche piene di malinconia, ma piene anche di tutto il sentimento che evidentemente ha tracciato, ha segnato la vostra storia, un'unione che è durata 30 anni, un matrimonio che è arrivato tardi. Però le chiedo, Adele, in questo libro, La mia vita con Giampaolo Panza, che cosa traccia la vostra unione, il vostro legame? Traccia il nostro incontro, che è stato un incontro per caso, complice la fine del Partito Comunista, quando io l'ho fermato in treno, e poi, come accade a chi è fortunato come noi, è scoppiata una scintilla e non ci siamo più lasciati. Senta, la straordinaria carriera di Giampaolo Panza, come entra dentro questo suo libro? Dunque, questo libro è non solo la mia storia con lui privata, è anche la nostra storia pubblica, perché io ho condiviso tutto quello che lui ha fatto nei 30 anni di vita insieme. Quindi c'è anche tutta la parte che diceva lei nella presentazione, il passaggio dalla saggistica al romanzo, anche se lui si definiva non uno scrittore, ma uno scrivente, un raccontatore di storie, ma c'è anche l'arrivo ai libri scomodi che lei ricordava, e a tutto quello che abbiamo vissuto dopo quello che io ritengo essere un atto di verità e di coraggio. Deve essere stata, come dire, una grande amarezza per Panza, dopo quei libri, diciamo, parliamo di quello che è successo nel dopoguerra, la storia della resistenza, quello che è avvenuto e di cui non sempre si è scritto, a un certo punto Panza ha cominciato a scriverne. E lui, che è sempre stato un uomo di sinistra, della sinistra italiana, in qualche misura ha sofferto un isolamento. È stata questa la sua amarezza, in fondo di essere staccato dal suo mondo, di trovarsi in contrapposizione al suo mondo. Devo dire che l'amarezza maggiore era mia, perché lui, ci ricordiamo tutti, che ha rischiato anche di essere ucciso dai ragazzi che facevano riferimento alle Brigate Rosse, il gruppo Barbone di Milano. Certo. Quindi sapeva prendere le cose anche con molta nonchalance. la cosa che non sopportava lui era il silenzio. Il silenzio di quello che lei ha chiamato il suo mondo, dei suoi vecchi colleghi, del suo vecchio giornale, nel quale ha passato 15 anni, anzi nel gruppo ha passato 30 anni. Però poi eravamo, ed era, ripagato dall'incontro con tantissimi altri amici, che sono rimasti veri perché io sono stata chiamata soltanto da loro. Sì, capisco questo sentimento di isolamento. Un'ultima domanda. Io penso che abbia molto influito anche la morte prematura del figlio, di Giampaolo Pazza. Certo, non ha fatto bene, però il rapporto con Alessandro è sempre stato complicato. La mia presenza è stata un elemento di discussione, chiamiamola così. Ho capito. Un'elemente discussione con cui lei ha convissuto. Lui ha imparato a difendersi. Adele, discussione con cui lei ha convissuto nel corso di questi 30 anni, come dicevamo. Certo. Non c'è dubbio. Certo, certo. Adele Grisendi, leggeremo con grandissima curiosità il suo libro. Leggeremo con grandissima curiosità il suo libro. Grazie. Glielo posso assicurare. Vi ringrazio tanto, vi ringrazio tanto. Grazie. Un grande abbraccio, Adele, davvero. Grazie. Grazie. E adesso? A presto. A presto.